Il Circolo Artistico di Arezzo ha riaperto il suo storico palazzo con una serie di iniziative dedicate alla bellezza del gusto, dell'arte e della musica. Prima fra tutte l'esposizione della grande tela del pittore Wolfango Peretti Poggi, copia in grandezza naturale della scena della vittoria di Costantino Sumassenzio di Piero della Francesca. Abbiamo questa grande opera qui alle nostre spalle che è stata inaugurata appunto da pochissimo ed è un comodato che abbiamo avuto dagli eredi. Questo è un acrilico su tela che riproduce in misura originale la vittoria di Costantino Sumassenzio di Piero della Francesca, della Cappella dei Bacci di Piero della Francesca. Quindi una bella cosa, stiamo studiando ora come fare a renderla visibile al pubblico perché purtroppo l'originale manca circa il 60%. Questa è ricostruita per intero con uno studio che ha fatto all'epoca, è stata fatta dall'82 all'84, da questo che è uno degli ultimi grandi del Novecento, Wolfango Peretti Poggi. E quindi siamo molto contenti di avere al circolo un'opera di questo genere, 7 metri e 60 per 3,40 d'altezza, insomma è un bel giocattolino. Sempre le sale del circolo artistico ospitano un tributo ad Amedeo Modigliani, un'idea nata nel 2020 nel centenario della sua morte. L'esposizione è la personale di Giovanni Pelini in arte Ilenep, artista che nel 2017 ha ricevuto il premio Modigliani a Spoleto Arte. C'è questo ricordo dei cento anni dalla morte di Modigliani che sono bellissimi queste opere d'arte? Sono veramente molto affascinanti, alcune riproducono proprio le classiche teste di Modigliani. Ilinep, in arte si chiama così, è l'artista che espone. Lui doveva fare questa mostra nel 2020, aveva già prenotato tutto, poi purtroppo siamo rimasti bloccati e quindi stiamo cercando di recuperare e Modigliani penso che ci scuserà, insomma, se la mostra l'abbiamo fatta nel 2021. Una cosa da vedere perché sono opere intriganti e affascinanti. Sì, poi credo che 100 o 101 anni basta vederle queste opere. Sono pienamente d'accordo, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie.